Pochi giorni e la Cavese avrà il nuovo allenatore per la stagione di Serie C 2019-2020. La vacazio tecnica scaturita a seguito della risoluzione contrattuale con Giacomo Modica sembra destinata a durare solo una settimana scarsa. Il mister che potrebbe rilevare, forse già da questi giorni, il compito di Modica è Francesco Moriero, che si è incontrato con la proprietà metelliana, dunque se dovessero esserci progressi arriverà anche la conseguente ufficialità. Moriero, ex tecnico di San Benedettese e Crotone, che ha lavorato anche in Africa e in Svizzera nelle annate scorse, sarebbe quindi in poll rispetto ad altri profili che erano quelli di Domenico Zito e di Francesco Monaco. Più avanti arriverebbe invece l'ufficialità del direttore sportivo, che sostituirà Pavone alla Cavese. Si tratterà di Francesco Lamazza, il quale si insedierà ufficialmente il mese prossimo, cioè dopo la scadenza del contratto con la San Benedettese, anche se di fatto potrebbe aver individuato lui l'allenatore giusto per la successione di Modica. Partiranno comunque a breve anche i discorsi per quanto riguarda i calciatori. In casa metelliana ce ne sono pochi che hanno contratti pluriennali, come Nunziante, come Hitley, LIA e Sainz Massa. Parecchi altri sono invece in scadenza a giugno e resta da capire quanti avranno le possibilità per rinnovare. Al 3DC, resta in corsa solo il Trapani tra le squadre del girone C che si erano qualificate per i play-off. Dopo il 2-2 dell'andata al Cibali, ieri sera la formazione Granata ha eliminato il Catania pareggiando 1-1 in casa. Togurdo e Curiale i marcatori. E a Trapani la formazione etnea di Mister Sottil ha finito in 8 contro 11 per le espulsioni di Esposito, Biagianti e Calapai. I Rossoazzurri, con il loro direttore Lomonaco, hanno contestato l'eccessiva severità dell'arbitro. I Trapanesi contenderanno al Piacenza un posto in Serie B, così come farà il Pisa al cospetto della Triestina per un altro posto. Invece l'andata dei play-out intergirone disputata a Lucca ha visto il Bisceglie perdere 1-0 con la Lucchese, gol di Sorrentino. La gara di ritorno sarà disputata sabato a Bisceglie. La compagine che nel doppio confronto avrà segnato più gol sarà salva dalla retrocessione in D.